Il senato, così, facciamo in maniera che gli elementi comuni siano già dall'inizio condivisi. Do subito, il Presidente Meta, quindi per la linea che può integrare, la legge Paolo sulla sicurabilità è stata, uso un termine, offre il contenitore anche per alcuno, oggi che è un tema centrale, per lo sviluppo della mobilità sostenibile, sia di introdurre il tavolo a rotonda, Grazie. Grazie.